Bella a tutti ragazzi, lo xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Finalmente l'aggiornamento è arrivato e volevo aprirlo, guardarlo, viverlo con voi prima di fare tutte le cose e capirlo bene da solo. Ho aperto il gioco, l'ho aggiornato e mi dice hai dei punti stella. Ecco qui dei punti stella per tutti quei miglioramenti che hai effettuato dopo aver raggiunto il livello Re 6. Ma come Re 6? L'avrò raggiunto nel 2017. Non male, eh? 193.770 stelline. Bam, le prendiamo. Ora è più facile avanzare in gioco. Abbiamo ridotto la quantità di XP necessari per raggiungere un nuovo livello, noi siamo a livello 14. 14. Oh, porca miseria. Sono così il livello 14 di prepotenza. Campioni sbloccati. Porca miseria. Io mi ricordo dalla pubblicità che posso cliccare sopra qui. Ma vuole un nuovo livello sbloccato. E lo vado ad aprire. Oh, 500 di gold. 50 gemme, porca miseria. Sette bombaroli questi non. 8 cannoni questo non. Vedi, 3 tesla. 12 hog rider. Boh, niente di che in realtà. Ma Uli, un po'. Né un altro. Né un altro, né un altro, né un altro. 750 di gold. 50 gemme ancora. Porca vacca quante. 10 draghi. 22 arcieri. 24 spiritelli elettrici. 19 capannelle goblazze. Va bene. Livello 4. Continuiamo ad aprire i bauli. 1000 di gold. Sbam. 50 gemme. Ma quante gemme sono? 25 jolly rari. 22 scheletri. 50 mascalzoni. 3 gigante goblin. C'è del livello 5. Cioè andiamo a livello 14, non ho capito. 1500 di gold. 50 gemme. 107 recluter royal. Dammi una leggendaria, dai. 38 macchine volanti. Potrebbe esserci una leggendaria dentro lì. Non sappiamo. Potrebbe esserci. Oh. Strega madre, strega madre. Gran cavaliere, non ci dispiace. Il gran cavaliere, non ci dispiace. Dovrei potenziarlo. Questo gran cavaliere. Livello 6, vai, dentro. 2000 di gold. 50 gemme ancora. Mamma mia, ne ho tantissime, raga. 143 jolly. 50 torri bombardiere. C'è un'altra leggendaria. Sono 6 dragoni. Oh, strega madre, strega madre. Oh, nice. Come 23 su 10. Ah, già è vero, perché vanno a livello 14. Anche i miner. Dentro con livello 7. 3800 di gold. 50 gemme. 178 pipistrelli. 63 rieti da battaglia. 8 draghi elettrici. Piano, piano. Strega madre, strega madre. Oh. Oh, mi spimpiare dei soldi. Ah, no, è vero, ce l'avevo maxato, ma va a 14. Porcaccia Eva. Sotto, sotto, sotto. 4500 di gold. C'è subito così la leggendaria. Porca miseria, la quarta scelta. Ehi, jolly. Fantastico, va sulla strega. 216 draghi d'ossa. 75 golem di elizir. 8 archi X. Non male. Ormai siamo quasi alla chiusura. 5300 di gold. Altre 50 gemme. 251 pipistrelli. 251 pipistrelli. 88 goblin cerbottaniere. 10 furie. Strega madre, strega madre, strega madre. Boscaiolo. Va bene, va bene, va bene, va bene. 15 boscaioli su 20. 6.000 di gold. 50 gemme ancora. 288 orde di sgherri. 100 capanne dei barbari. 11 spaccamuro. Strega madre, strega madre. Perca miseria. Non arriva la strega madre. Non arriva la strega madre. Non arriva. Che cavolo devo fare? Livello 11. Questo ha un sacco. 7500 di gold. Io sto facendo l'ira di dio di gemme. 125 jolly rari. 360 barili. 14 gelo. Strega madre, strega madre, strega madre. Non arrivo. Drago inferno. Aia. Drago inferno. 15 su 20. Livello 12. 9.000 di gold. 50 gemme. Bellissimo. Questo è come se fosse una strega madre. 432 draghi. 150 lapidi. 17 trivelle goblin. Queste non le ho mai potenziate. Livello 13. 11.300 di gold. 50 gemme. 540 carte comuni. 137 capanne. 22 streghe normali. Ficcaci dentro la strega madre. Ficcaci dentro la strega madre. Orca miseria. Fuori legge. Va bene. Fuori legge. Ce l'avevo maxata. Ultimo baule. 12.000 di gold. 50 gemme. 50 gemme. 576 arceri pirotecnici. 200 mega sgherri. 23 furie. Strega madre. Strega madre. Strega madre. Strega madre. C'è un altro! Gran cavaliere di nuovo. Non male. What the fuck? Oh! Il cavaliere d'oro! E allora andiamo a vederlo. Un deck con il cavaliere d'oro, ragazzi. Che meraviglia. Che bella truppa. Guardalo qua. Guardalo qua. Rarità campione. Tipo truppa. abilità a quella di avere un attacco veloce. Lo vediamo subito. Guardate che meraviglia. Fa una combo incredibile. 160 il danno. 2.000 punti ferita. 177 danni al secondo. 0,9 i colpi. Bersagli terra. Mischia media distanza. Un guerriero con dei capelli che farebbero invidia a chiunque. Delle doti atletiche che non vede l'ora di mettere in mostra. Il deck come vedete ha due tank principali. Il cavaliere e il peccone. In aiuto c'è la riete da battaglia e poi altre truppe super interessanti. Strega madre, fantasma, mago elettrico che questa season è maxato. E due spell. Fireball e zap. Andiamo a vederlo subito in ladder. Contro Eyal degli Hangol Hall. Vediamo subito. Si può proprio partire con un cavaliere d'oro. Lui gioca invece il golem di Elisir. Per ora non facciamo nulla. Strega per lui. Becca per il suo cavaliere. Cattivissimo ragazzi. Con il suo attacco riesce ad andare sulla torre principale. Il devasto estremo. Fermiamo un attimo il suo goblin cerbottaniere. Sarei voluto ripartire anche con la riete da battaglia. Ma in realtà aspetto. Mamma mia ragazzi. Il mago elettrico al 14 è devastante. Intanto partiamo con il raddoppio dell'attacco. Credo che lui ci sia già reso. Andiamo di nuovo. Andiamo di nuovo. Let's go. Arrieta battaglia che impatta sulla sinistra. Peccone strega madre. Sulla destra. Davvero incredibile. Sfruttiamo di nuovo l'attacco del nostro cavaliere d'oro. E poi si va avanti alla distruzione della torre principale. Wow. Senza nessun problema. Che devasto. Che devasto. Andiamo avanti. Subito dentro con un altro game. Intanto ci portiamo a casa un sacco di monete. Contro Mia del clan 187. Mago elettrico sopra la sua fuorilegge. Subito anche il principe Doi, cavaliere d'oro. Peccato che è stato counterato molto bene dagli scheletrini. Entra il boia. Non possiamo per adesso counterare Log. Serve una strega madre che ci aiuti. Attenzione. Strega madre al 14 ha fatto veramente un sacco di male. Ma noi... In qualche modo riusciamo a convertire i suoi pipistrelli in maialini. E poi super rapido la rieta da battaglia che riesce a impattare. Molto bene. Cavaliere d'oro. Avanti, avanti, avanti. Ok, la combo ha funzionato. Riusciamo anche a togliere il suo attacco. Parca miseria, ci frega sempre. Però in realtà non è andata male la sua abilità perché ha permesso di togliere tutta l'orda di scheletrini e non farci consumare due di Elisir per una possibile zap. Credere al 14. Arriva la prima spadata del pecca. E si prosegue. Giocherà il boia molto probabilmente. No. Gioca dei pipistrelli che andiamo a togliere in una maniera abbastanza rapida. Strega madre dietro. Peccone. Via il suo cavaliere. Via il suo cavaliere. Attenzione ancora. Voglio vedere quello che succede. perché io sarei intenzionato a partire con una dieta da battaglia dall'altra parte per vedere se l'attacco è buono. Non potrebbe essere, non dovrebbe essere counterabile. Infatti riesce ad andare sulla torre ed è obbligato il nostro avversario a giocare dei pipistrelli. Non subiamo neanche una hit. Cavaliere d'oro davanti. Avanti subito. Un po' più veloce, un po' più veloce l'attacco. Porca vacca, il gigante royale. Andiamo a fermarlo immediatamente. Qualcuno fermi il gigante royale. Perfetto. Gigante fermato. Sarà obbligatoriamente una zap. Via pipistrelli, via pipistrelli. Intanto strega madre che ci stava dando da fare. Porca di quella miseria. Arrieta a battaglia davanti. Vai, 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 vai. Riescono a impattare nuovamente. Peccone ancora sopra. Acqua elettrica dietro. Oddio. Let's go. Let's go. E andiamo a chiuderla. Bellissima, ragazzi. Questo nuovo campione. Il Cavaliere d'Oro. Insomma, ragazzi. Io spero che il video di oggi di Clash Royale vi sia piaciuto. Mi raccomando. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. E lasciate un commento qui sotto. Su qual è il tuo campione preferito. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao. 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 Ciao.